Ho aspettato un'eternità che arrivasse un uomo con la tua forza. Ma quale uomo striscia nella sua tomba in cerca di speranza? Un uomo disperato. I turchi minacciano il mio regno. Sono quasi giunti. Voglio il potere per salvare la mia gente, la mia famiglia. La tua salvezza è nelle tenebre e tutta la potenza. Avrai la forza di cento uomini. E il dominio sulla notte e tutte le sue creature. A quale prezzo? Non puoi averne idea. Ma te lo mostrerò, baby. Che cosa ti succede? L'ho scelto io. Ma perché? Perché gli uomini non temono la spada. Sta arrivando. Temono i mostri. Non è questo ciò che sei. Pensate di essere vivi! Perché sapete combattere! Siete vivi a causa di quello che ho fatto per salvarvi! Non dovete mai dimenticare chi sono. O NON DOVETE MAI DIMENTICARE CHI SONO! O NON DOVETE MAI DIMENTICARE CHI SONO! Grazie.